Secondo me le principali sfide sono nel capitale umano. Noi in Altron lo sappiamo che siamo 3.000 ingegneri in Italia e penso che l'Italia ha questa grande ricchezza di trovare l'ingegnero giusto perché sono questi nuovi ingegneri totalmente implicati nell'innovazione, nella tecnologia che risolveranno le sfide del futuro. Noi lo vediamo, ogni sei mesi la tecnologia cambia, ogni anno ci sono nuovi processi e tutte le scuole di ingegneri, tutte le università italiane hanno competenze di alti livelli e con questo gruppo di giovani, con questa nuova generazione, io sono convinto che la sfida è già in parto risolta. Grazie. 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 Grazie.